eccoci di nuovo a un appuntamento con economia in quark con me io sono veronica de romanis come c'è alessandro benicola e gian paolo galli che vi salutano questa puntata ci concentriamo partiamo dalla grecia e in un certo senso tiravamo un sospiro di sollievo però invece qualcosa anzi più di qualcosa sta cambiando è così alessandro sì il standards and poor che come ascolta sa è una delle più grandi agenzie di rating del mondo è una delle quattro riconosciute dalla banca centrale europea quando nel suo report di un paio di giorni fa ha confermato noi abbiamo tirato un sospiro di sollievo quello che si chiama l'investment grade per l'italia bbb ha fatto un'altra cosa e cioè ha elevato quello della grecia che era appena sotto l'investment grade e l'ha portato anche quello greco e investment grade cosa vuol dire questa cosa qua vuol dire ad esempio che i fondi pensione o molti fondi che hanno delle linee guida di non poter investire in che non sono abbastanza sicuri quindi che non hanno un investment grade adesso potranno cominciare a investire tranquillamente anche in titoli greci e questo avrà il buon effetto positivo perché diciamo a cascata non ci sono solo le conseguenze negative ma ogni tanto anche quelle positive che più ne compreranno e più naturalmente si abbasserà il tasso di interesse perché ci sarà una domanda che sarà superiore all'offerta o quantomeno combinerà con l'offerta di titoli greci che vuol dire tutto questo vuol dire che la grecia che voi tutti vi ricordate è stata sull'orlo del collasso nel 2010 perse per l'appunto l'affidabilità grade perché si scoprì che il governo greco aveva truccato i dati del deficit pubblico del debito pubblico che in realtà era schizzato enormemente schizzato enormemente per spese faraoniche tipo quelle per le olimpiadi di atene del 2004 o per un sistema che non aveva senso noi ci lamentiamo il nostro sistema pensionistico ma lì si andava in pensione a 50 anni le figlie le figlie nuvili ereditavano le pensioni dei padre una cosa che persino per noi italiani sembrava un po' esagerata beh insomma dopo una cura drastica da parte della famosa troica anche con errori con errori come può capitare sempre in questi casi e con molte sofferenze per il popolo greco ricordiamoci che oggi il pil greco ancora è inferiore rispetto a quello del 2008 con le parole quindici anni fa i greci stavano meglio di come stanno adesso però soprattutto grazie al governo mizzotakis cioè l'attuale primo ministro che guida un governo moderato di nea democrazia che è un partito moderato conservatore ha cambiato e anche quello precedente di sirizza ve lo ricordate che a un certo punto in italia si fece pure la lista sirizza ministro delle finanze varufakis questi che facevano il referendum contro l'austerità però a un certo punto anche loro si erano calmati ma con mizzotakis è cominciato un programma teso a fare le cose che noi diciamo sempre ridurre la spesa pubblica ridurre il deficit ridurre il debito pubblico cosa che sono riusciti a fare veramente bene nel 2018 il debito pubblico era del 186 per cento del pil 186 peggio dell'italia 2019 è sceso nel 2020 come tutto il mondo col covi del salito al 206 ma poi nel 2021 2022 precipitosamente giù 170 per cento adesso 160 per cento 40 punti in tre anni una cosa incredibile e la spesa pubblica che da noi sembra sempre impossibile tagliare è passata ad esempio sempre molto semplicemente dal 2021 2022 dal 57 per cento al 52 per cento del pi sono stati liberalizzati molti settori dell'economia sono stati privatizzati molti settori dell'economia quando è stato necessario sono state alzate alcune tasse è stato liberalizzato il mercato del lavoro e sono state drasticamente soprattutto pensando al punto di partenza riformate le pensioni ma così facendo il governo si è anche potuto permettere delle cose che sulle quali noi ancora discutiamo ad esempio in grecia c'è il salario minimo e quest'anno il governo osservatore di mitzotakis l'ha aumentato a 950 euro al mese che se pensate a un paese come la grecia dove il costo della vita è il 20 per cento in meno rispetto all'italia non è male quindi qual è la lezione la lezione della grecia è che alla fine non ci sono formule magiche non ci sono come veronica dice sempre nei suoi libri della famosa austerità espansiva non ci sono formule magiche non non si risolve tutto molto velocemente ma si tratta di avviare un percorso un percorso fatto di riforme liberalizzatrici sia nel mercato del lavoro sia per gli investimenti microsoft investe un miliardo per un centro vicino data storage fighter investe 650 milioni di dollari tendo conto che la grecia ha un'economia otto volte più piccola di quella italiana quindi un miliardo di microsoft 650 milioni fighter sono soldi veri quindi si tratta di fare un percorso cercando di seguire con la più dignitosa coerenza possibile per rimettere a posto i conti pubblici aumentare la fiducia degli investitori sia quelli che comprano il debito a cui poi investono nel paese e poi i frutti arrivano fino a un prossimo governo che dissiperà quello che è stato finora accumulato però ne è democrazia altri tre o quattro anni ci sta ancora e quindi i greci faranno in tempo di sollevarsi ulteriormente grazie Alessandra aggiungerei che bisogna avvisaggio di dire che ci sono anche dei costi da pagare che non è tutto semplice che però in questo percorso poi arrivano i benefici sono quelli che stiamo vedendo in questi giorni allora dalla grecia inevitabilmente passiamo all'italia e qui do la parola a a giampaolo galli quindi qual è la situazione abbiamo un quadro macroeconomico della nadef una bozza di legge di bilancio una discussione in corso dove stiamo e dove andremo beh dunque intanto diciamo che l'abbiamo sfangata con standard e poor c'era molta ehm preoccupazione eh e la preoccupazione e c'era stato il fatto che in prossimità della presentazione anni del governo lo spread era un pochettino aumentato non a livelli preoccupanti ma certo a questo punto è lo spread più alto di tutta l'eurozona un segnale e segnali sono venuti da tutte le più autorevoli istituzioni a proposito di questo progetto di bilancio che mh promette di fare parecchio deficit magari non più di quello che è stato fatto dai governi precedenti ma un po' troppo deficit data la situazione debitoria dello stato italiano della della economia italiana ehm per cui eh non si vede una riduzione di topil eh per quest'anno eh cioè per il 2024 si prevede una riduzione infinitesimale per gli anni successivi un po' di più ma i mercati guardano quello che succede quest'anno non quello che si promette che succederà fra n anni ehm quindi e tutta una serie di misure sono finanziate solo per un anno particolare la riduzione del cuneo fiscale la riduzione delle tasse e questo in realtà eh è un'ipoteca sui futuri eh sugli anni futuri quindi in realtà i deficit dei prossimi anni è più alto in più questa minima riduzione del debito pil che si prevede è basata su ipotesi un po' fragili una eh una serie di ipotesi un po' fragili una eh crescita economica un po' più alta di quella che prevedono eh in generale gli analisti eh privatizzazioni che non si sa bene da dove possano venire ehm una poi eh ci sono aspetti tecnici un deflatore del pil che è molto più alto del deflatore cioè dell'indice dei prezzi al consumo ehm passi di interesse che forse perché è passato un po' di tempo da quando hanno fatto la Nadef adesso nel frattempo sono aumentati di cinquanta punti base insomma questa riduzione è poco convincente peraltro eh nei prossimi due anni stando alle stime del governo abbiamo un effetto cosiddetto palla di neve positivo sui conti pubblici cioè la crescita del pil è maggior il nominale maggiore del tasso di interesse medio sul debito pubblico il che riduce di per sé il debito nel duemilaventiquattro di un e sette punti 1,7 punti di pil e ancora di uno zero sette zero otto nel duemilaventicinque quindi è vero quello che dice il ministro Giorgetti che i crediti edilizi pesano come un macigno sulle prospettive del debito pubblico ma è anche vero che in questo momento abbiamo questo effetto palladine che è sempre stato negativo per l'Italia e tornerà a essere negativo dal duemilaventicinque in poi almeno secondo le stime del governo abbiamo un effetto palladine che è positivo in questo caso e quindi insomma di qui le perplessità timori i mercati si chiedono beh allora quando comincerà l'aggiustamento dei conti pubblici dopo il duemilaventicinque c'è un'età dell'oro in cui le cose andranno meglio e l'aggiustamento sarà più facile la risposta è con tutta probabilità no tra l'altro abbiamo come dire un contesto internazionale che ci preoccupa naturalmente abbiamo due porte due guerre drammatiche alla alle porte dell'Europa forse sarebbe prudente essere un po' più prudenti come abbiamo detto tanto spesso in questa in questa trasmissione ma Gian Paolo verrebbe da dire che anche oggi l'aggiustamento lo facciamo domani come al solito esatto un saluto da parte mia da parte di Alessandro Nicola Gian Paolo Galli e noi ci vediamo per un'altra puntata la prossima settimana arrivederci